E' un'altra cosa Caro signor Bertoni, come si è giunto alla carrozzeria? Sono nato carrozziere. Per me il bisogno di disegnare un'autovettura è lo stesso che prova un pittore di dipingere o un musicista di comporre una melodia. Personalmente le mie carrozzerie le ricerco nella natura. Tre tanti anni fa ne ricavai una da un cigno. La DS mi è stata ispirata da un pesce. Preferisce scolpire o disegnare carrozzerie? Non c'è differenza tra le due cose. Tutto ciò che è volume è scultura. La carrozzeria ha un volume. Le due cose sono identiche. Perciò quella del carrozziere è un'arte. Qualche cosa di più. In quanto c'è la creazione. Oltre alle impostazioni estranee, come le esigenze meccaniche, che non hanno nulla a che vedere con l'arte. con l'arte del carrozzeria. Fé un po' di più. Non è la creazione. Fé un po' di più. È un po' di più. Che è un po' di più. Grazie a tutti